Tutto è iniziato grazie al pedinamento che gli agenti della forestale dei comandi di Schegge Gualdo e Tadino hanno messo in pratica nei confronti di alcuni furgoni e camioncini che raccoglievano rifiuti su richieste praticando. È stato spiegato tariffe più vantaggiose rispetto alle ditte che normalmente si occupano di questo genere di attività. Indagini è tutto campo che hanno permesso al corpo forestale di individuare quello che viene ritenuto un traffico illecito di rifiuti ferrosi per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro raccolti abusivamente e poi rivenduti a una ditta di Perugia o abbandonati in strada in discariche abusive. Sono stati notificati anche 86 avvisi di conclusione delle indagini al termine dell'inchiesta Iron 3 cominciata due anni fa e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo Umbro sequestrate 5.000 tonnellate tra ferro, fili, rame, piombo, alluminio, motori, ottone ed acciaio. Tra gli 86 indagati ci sono 65 marocchini, 18 italiani e tre persone originarie dell'est europeo. Tra loro artigiani, commercianti e titolari di piccole imprese che secondo la forestale sfruttando il prezzo di smaltimento assai inferiore si rivolgevano agli abusivi per disfarsi dei rifiuti. Alcuni materiali sarebbero stati rivenduti in maniera illegale al titolare di una ditta di Perugia anche gli indagato.